Sala apparecchiata e musica in sottofondo, seduti al tavolo fingendo di poter cenare, così i ristoratori salernitani hanno indossato venerdì sera i panni dei clienti, simulando la riapertura regolare dei locali di sera. È andata in scena così dalle ore 20 alle 22 in città, come provincia e nel resto d'Italia, la protesta pacifica dei ristoratori che si sono ribellati alle misure restrittive imposte dal governo per sconfiggere la pandemia e cercare di arginare la diffusione del coronavirus. Io apro è lo slogan della mobilitazione andata in scena contro le nuove misure del DPCM, una protesta lanciata qualche giorno fa sui social nell'ambito dell'iniziativa nazionale di protesta promossa dal collettivo TNI Tutela Nazionale Imprese che ha visto in prima linea anche l'ACS, Associazione Commercianti per Salerno Noi, presieduta da Armando Pistolese.